Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale, oggi nuovo video Ragazzi, perdonatemi per le luci, spero solo che si veda bene e qualcosa, soprattutto in questo video Ma oggi va e viene il sole, dietro di voi ho la finestra della terrazza Quindi speriamo che le luci siano almeno decenti in questo video Incrociamo le dita Comunque, oggi nuovo video, make up, però è in collaborazione con Eleonora Mocha Vi lascio giù il link nell'info box ormai sul mio canale Dovreste conoscerla perché ogni tanto escono i video in collaborazione con lei A me piace tanto come persona, oltre come youtuber, come appassionata di make up come me Fa dei look pazzeschi comunque, aperta e chiusa parentesi E mi piace anche collaborare con lei Infatti se vedete, io lo dico sempre, nei miei video Cioè sul mio canale ci sono ben poche collaborazioni, quasi niente Proprio perché io non collaboro con chiunque Ma io prima di collaborare voglio conoscere una persona E allora se quella persona è come dico io, nel senso è proprio una brava persona Che mi piace, allora poi collaboro e tutto quanto Ogni tanto lei mi chiede i video in collaborazione Ogni tanto sono io stessa che li chiedo a lei Insomma, ci piace un po' fare questi video insieme A un anno, più di un anno che la conosca ed è davvero brava Comunque vi ripeto, se non la conoscete Cosa aspettate? Andate nel suo canale e ve lo lascio giù nell'info box Allora, abbiamo deciso di fare questo video insieme Che in realtà, spero che venga bene Perché? Perché è un po' particolare Un look autunnale dove partiamo infatti subito dagli occhi Sulle labbra ho messo il mio solito amato Viper di Nabla Questo qua, che tutti dicono che pizzica tantissimo sulle labbra Ma io riesco a sopportarlo Poi comunque è soggettivo Non fate caso alle unghie ma le sto facendo crescere Lasciamo perdere Comunque, oggi ricreeremo sia io nel mio canale Che lei nel suo, nei rispettivi video Un look autunnale Con cosa? Da-dan! Allora, tutte e due utilizziamo le palette di Be Perfect Però l'abbiamo reso un po' più piccantino il video Dove lei ha scelto le colorazioni Cioè, ditemi se non è la vita questa palette Le colorazioni che dovrò utilizzare oggi io E io ho scelto le sue Però io utilizzo la Carnival 3 di, appunto, Be Perfect E lei invece, visto che lei appunto ha acquistato Quella nuova uscita di Be Perfect Lei utilizzerà quella E io ho scelto i colori a lei Quindi se volete vedere anche i colori che ho scelto io a lei Per il suo make up Andate nel suo canale, nel suo video Che oltre al canale vi linko giù nell'info box Il canale di Eleonora Moccio E il video suo, appunto, dove io scelgo i colori a lei Nella palette Allora I colori che ci siamo scelte entrambi sono quattro a testa Tranne con un extra Dove Lei ne ha scelti quattro per me Più uno che potrò scegliere io a scelta, appunto E lei è la stessa cosa Io gli hanno scelti quattro E uno sceglierà lei A sua scelta Cominciamo subito Spero di essere stata chiara nel video Vado a mettere ragazzi L'avete vista la palette E se ce l'avete Saprete benissimo ragazzi Che ha una pigmentazione pazzesca È stupenda È una delle palette di Be Perfect Che amo da morire Però Per far rendere Per risaltare meglio Gli ombretti Non voglio mettere un primer qualsiasi Ero indecisa tra quello di Anastasia E quello di Root Cosmetics Che è un correttore bianco E infatti ho scelto lui Ho detto Mettiamo una base bianca Così almeno rendono perfetti gli ombretti Questo è Sculpting Concealer Comunque è un correttore Di Root Cosmetics Però È bello 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 bianco Cioè proprio bianco bianco E lo vado E comincio Guardate quanto è bianco È bianchissimo E comincio a metterlo Su tutta la palpebra Come primer E dopo vi svelo Appunto Quello che c'è I colori che ha scelto lei per me Eccoci qua Una volta messo il primer Vi svelo appunto I colori Allora La palette ha un mega specchiettone E questa è la palette Lei ha voluto rimanere Nel tema Dei marroncini Verdognoli Insomma Questi colori super autunnali E poi io ho scelto i suoi Quindi correte anche nel suo canale A vedere quelli che ho scelto io E adesso cominciamo Allora Cominciamo subito a fare la base Con un colore che ha scelto Lei appunto Ovvero Clay Che è questo Giallo Ocra Senape Insomma Questo colorino qui Meno male che sono partita dagli occhi Perché questa palette Di Fallout Ne fa tanto Però È anche vero che Sono pazzeschi Sono pazzeschi Cioè Super polverosi Sono pazzeschi Gli ombretti Utilizzerò Lo specchio della palette Almeno Cioè È pazzesco Comincio A metterlo Nella piega dell'occhio Spero Che mi viene Che venga Un make up Carino È super autunnale Soprattutto Lo voglio E devo dire Che i colori Che ho scelto Sono contenta Perché comunque Mi ricordano L'autunno Il marrone Le foglie Il verde Sì sì Poi Poi fatemi sapere Anche Voi Quando finirò Il make up Se vi piacerà O meno Comunque La pigmentazione Ragazzi È pazzesca E la sfumabilità Di questa palette È altrettanto L'ho portato Anche nella rima inferiore Ma mi sono fermata Perché voglio fare Prima la parte sopra Dell'occhio Vado a fare la base Tutto E poi Andiamo a finire La parte sotto Appunto Inferiore dell'occhio Giro il pennello Perché un altro colore Di quelli che mi ha scelto Sono Cocoa Tahiti Green E Forest Noi abbiamo utilizzato questo E lei ha scelto anche Questo verde Pazzesco Questo verde Più chiaro E il verde Sopra Questi due E questo qui Più questo E uno A scelta Ce l'abbiamo Allora Devo un po' Valutare Che ombre Ti mettere Sopra Sotto Come strutturare Il make up Intanto la base Direi che ce l'abbiamo E mi piace anche tantissimo Questo colore Lo uso ben poco Con un pennellino Mi sa proprio Che andrò a prendere Un marrone O un verde Prendiamo il marrone Prendiamo O il verde No ragazzi Sono indecisissimi Aspettate Ci penso e arrivo Allora Ho deciso Ma nello stesso momento Ho paura Proviamo Proviamoci Proviamoci Cominciamo a prendere Forest Il marrone Lo andremo a stendere Nella rima inferiore Sopra non lo usiamo Speriamo che venga bene Almeno quello che c'è in testa Forest Questo verde qua Proviamo Facciamo tipo una sorta di Uh Bello polveroso Anche questo Una sorta di smokey eyes Lo porto all'interno Dell'occhio Pazzesco Dopo certo Andiamo a sfumarlo bene La pigmentazione È una bomba Spero che si veda E ripeto Quello che ho detto All'inizio del video Perdonatemi Per le luci Ragazze Ma È così la situazione Wow Dopo anche se Ci sono stacchi Non vi preoccupate Andiamo Anzi Andiamo a sfumare subito Non vi preoccupate Pazzesco Vado a farlo Sia da una parte Come vedete Che dall'altra Voglio proprio vedere Se l'idea Che ho in mente io È bella Ovvero È una schifezza Vedremo Dopo avergli dato Questa struttura Più o meno Dopo le sfumature Le voglio fare dopo Al centro Però sapete che forse Forse Mi dà una buona impressione Questo make up Speriamo Al centro Voglio mettere Tahiti green Questo verde Super power Super pazzesco Ha delle perle bellissime All'interno Questa palette È pazzesca Proviamo Al centro Lo metto Non in Tu Ragazze Ma che meraviglia Adesso lo vado a mettere Così in modo grossolano E poi con i pennelli Vado a sfumare bene I colori tra di loro E dargli Una bella struttura Adesso lo mettiamo Così Velocemente In modo Così Io spero che Io mi voglio avvicinare Per farvi vedere Perché questa palette Deve rendere tantissimo È pazzesca Sapete cosa vuol dire Pazzesca Adesso Adesso con dei pennelli Vado a sfumare bene Il tutto Ma secondo me È un make up Particolare Che non ho mai fatto Ma ci sta Brava Ele Figata Comunque qua Le labbra Stanno diventando Dei canottoni Questo è il risultato Che sono riuscita A ottenere Per sfumarli Ci ho messo Trent'anni Non so perché Mi sa che è colpa Di questa base Che era troppo Appiccicaticcia Però Il risultato Non mi dispiace Fatemi sapere Adesso Vado a togliermi Tutto questo bordello Che c'ho in faccia Perché Mi avvicino Per farvi vedere E pulire E sfumare bene I contorni E procediamo Con la base Rieccoci qua Allora Ho già preparato E preso Tutti i prodotti Ho già bagnato La mia sfugnetta Cominciamo Con la base E ho già messo La mia cremina Di Fenty Quella che mi vedete Praticamente sempre utilizzare Per quello che Non metteremo un primer Perché voglio provarla A testare Anche sotto Il make up Passiamo direttamente Col fondotinta E andrò a utilizzare Astra Il The Universal The Universal Foundation Nella colorazione 04N Che è l'ultimo Fondo uscita Fondo uscita Hashtag Fondo uscita È l'ultimo Fondotinta Di Astra Che è uscito Io l'ho comprato Da poco Avete visto anche Il video dove Vi parlavo del liceo Dove ci provavamo insieme Lo utilizzavamo L'unica cosa Che Il problema È la pompetta Che non so perché Avrò preso Il pack difettoso Ma non esce Dalla pompetta E quindi io devo Estrarlo Dal pack In questo modo L'unica cosa brutta È quella Perché non riesco Assolutamente A farlo uscire Ogni volta Ok Penso che così Basti La colorazione È leggermente Chiarina Però Per questo inverno Solo perché sono io Abbronzaticcia Ancora Abbronzaticcia Vabbè Comunque perché sono io Abbastanza abbronzata Poi comunque Quando passerà La abbronzatura È tutto Per me Questo colore Sarà Perfetto Questo fondotinta Mi piace Tantissimo Devo dire Che i fondotinta Di Astra All'inizio Quelli usciti Anni e anni fa Assolutamente Non riuscivo Ad utilizzarli Intanto Prendo anche Lo specchietto Ma Ultimamente Soprattutto Anche Soft Matte Foundation È anche Un fondotinta Che amo Da morire Anche se Ultimamente Per me Ci vogliono Almeno La pelle Sta impazzendo Ci vogliono Dei fondotinta Davvero Super super Idratanti Per la mia pelle Non so come mai Mi sta diventando Secchissima Tranne Nella zona T Che lì Purtroppo Mi sta tendendo Al grasso E non cambierà mai Comunque Finisco di mettere Il mio fondotinta Perché poi Come correttore Andremo a usare Questo di Catrice Il Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer Questo lo utilizzo Nella colorazione 010 Porcelain Perché a me Come sapete Il correttore Mi piace utilizzarlo Non solo per andare Appunto a correggere Ma anche Ad illuminare Senza colorarci Possibilmente I capelli Sì La dose che ho messo Sul viso È decisamente Perfetta Posso anche Dire che basta Anche perché Non ho Super imperfezioni Che voglio coprire Andiamo a mettere Un leggero strato Di correttore Qua Nelle occhiaie E qua Per alzare Lo sguardo E Nello stesso momento Illuminare Io lo metto Anche tanto Sul mento Ultimamente Mi stanno venendo Fuori Di brufoletti E si stanno Concentrando Sul mento E qua Io non so Se li vedete Ma Comunque Spero Spero che La luce Anda bene Ragazzi Perché aiuto Ok Vado a dare Una leggera Spolverata Per fissare il tutto Con la compact powder Di Sien Nella colorazione light Ragazzi È della linea Sien Nature Del Lidl Ma io la Amo È bellissima A me piace tanto Perché è sottilissima Non mi evidenzia La grana della pelle Fantastica Ne metto Soprattutto Come ripeto Che vi ho detto prima Tanta nella zona T E abbastanza Con un pennellone Nel resto del viso Comunque i prodotti Li trovate tutti Giù in descrizione Scritti nel dettaglio Ogni prodotto E anche la colorazione Adesso vado a fare Un po' di contour Con la palettina Di Catrice La 3 step to contour Ha un terra calda Una terra fredda Un bronzer E un illuminante Ma noi andremo A fare un mix Tra le due terre Perché per me E per la mia carnagione Una è troppo chiara E una è troppo fredda Eccoci qua Ho fatto anche un po' sul nasino Come blush Andiamo a usare Il Feel Glamour Che è un far di illuminante Effetto seta Di Bella Oggi Nella colorazione Coral 02 Tra l'altro È stupendo Illuminante Palettina di Revolution Che è la Spring Class Si chiama Ice Cream Sunday E adesso Terminiamo con gli occhi Voglio andare a mettere Una matita nera All'interno dell'occhio Poi comunque Trovate tutto Nell'info box In questo video Sto facendo Abbastanza confusione Comunque I colori che aveva scelto Ho preso Questo marrone Mattone Diciamo E sono andata Cocoa Si chiama Ok Perché erano Uno Uno Due Tre E quattro Questi erano I colori Sono proprio Una stupidina Mi confondo Sempre i colori Nella rima inferiore Sono andata appunto A mettere Cocoa E clan Sfumati Tra di loro E adesso Abbiamo L'ingrediente A scelta Il colore A scelta Che possiamo utilizzare Proprio per Io Lo utilizzerei Più che sfumare Tutto Andare all'interno Dell'occhio E andrò a prendere Secondo me Vanilla Ci sta Visto che Per rimanere In tema Di questi colori Questo Sembra Argento Con delle micro perle All'interno Verdi Dei riflessi Verdi Almeno riprende Il tutto E andiamo a utilizzare Appunto Vanilla Mamma mia Fantastico Questo Si Ho deciso Che questo Sarà Il mio Colore A scelta Me la gioco Con questo Vado a metterlo Anche di là L'ho scelto Per riprendere Appunto I colori Ragazzi Perché Ha delle perle All'interno E dei riflessi Verdognoli Almeno riprende Il tutto Bellissimo Adesso Come mascara Questo comunque Il make up Che è venuto fuori Spero vi piaccia Speravo che venisse Decisamente meglio Magari sfumiamo Di più La rima Inferiore Per non lasciare Così Un taglionetto A me piace La rima inferiore Portarla sempre fuori Ultimamente Mi è venuta Sta fissa Ok E poi vado a Correggere Un po' Il tutto Fatemi sapere Se è venuto Almeno qualcosa Di carino Vado a mettere Il mascara Che è L'Intense Metamorphose Waterproof Di Yves Rocher Questo è una Delle novità Che anche questa Mi ha mandato Una di voi Super super Carina Adesso vedrete Che mi sporco Anche Sono molto curiosa Anche di vedere Cosa combinerai Ele nel suo video Con i colori Che gli ho scelto Io Guardate Le ciglia Pazzesco Come ultimo passaggio Voglio andare a mettere La Adorable Penso che si pronunci così Che è Un rossetto Matte Semi matte Di Uibo Che avevo trovato È bello marrone Per riprendere un po' Visto che abbiamo fatto Tanto verde E la rima Bello Questo marrone È stupendo Non bello Ragazzi Questo è il mio Make up Autunnale Che tra l'altro Mi piace Un casino Era tantissimo Che non mi vedevo Con un rossetto marrone Infatti Mi andrà anche Sui denti Speriamo di no Fatemi sapere Cosa ne pensate Io vi mando Un bacione Adesso corriamo Tutti insieme A vedere Il video di Ele Ciao Ciao Adesso Ciao Grazie a tutti.